È solo una statistica curiosa, ma Alberto Gilardino, versione allenatore, può anche godersi un particolare primato, quello degli scontri diretti in panchina con i colleghi campioni del mondo. Sono molti i giocatori che vinsero il titolo mondiale a Germania 2006 ad avere poi intrapreso la carriera da tecnico professionista e fra tutti questi Gila è il re degli scontri diretti fra gli eroi di Berlino. Il successo di sabato sera su Alessandro Nesta ha portato infatti ad otto vittorie e due sole sconfitte il bilancio del mister rosso-blu nei confronti dei suoi vecchi compagni in azzurro in quell'avventura mondiale. Gli unici non ancora affrontati da allenatore sono Andrea Pirlo, che però si troverà di fronte nel prossimo derby di Coppa Italia, e Gennaro Gattuso, attualmente alla guida dell'Aiduc di Spalato. Per il resto Gila ha battuto tre volte su tre Pippo Inzaghi contro Regina e Salernitana, due volte su due Alessandro Nesta, Monza quest'anno e Reggiana in Coppa Italia l'anno scorso, una volta ciascuna Fabio Grosso contro il Frosinone 1-0 al Ferrari, sin serie B, una volta Fabio Cannavaro, Genua Udinese 2-0 lo scorso febbraio, e una volta Massimo Oddo, Genua Spal 3-0 in serie B nel febbraio 2023. Otto vittorie a fronte di due soli K.O., quelli con lo stesso Fabio Grosso a Frosinone in serie B e quello con Daniele De Rossi 1-0 per la Roma all'Olimpico lo scorso campionato. La rivincita è prevista il prossimo 15 settembre a Luigi Ferraris.